Il capitano è Davide Morazzini Il capitano è Melvin Johnson esce dai blocchi, spara la trippa Il capitano è stato molto, molto, molto importante l'aiuto del nostro pubblico che ci ha fatto continuare a credere, a non molare mai e c'è stato questo conuvio fra i ragazzi che in certi momenti abbiamo fatto qualche canestro importante Grazie 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 Grazie